La musica dall'avvio al secondo semestre della rassegna Building Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. Iniziativa promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia. Il primo libro, Domani No, di Cristiano Carriero, narra il percorso di andata e ritorno di un musicista timido e del suo sogno. Più che altro un romanzo di frustrazione, perché volevo fare il cantante e non ci sono mai riuscito, allora ho raccontato la storia di un cantante, che è questo Ernesto Celi in arte Boavida. Però tutto il suo percorso è un percorso di formazione, perché dalle ceneri di un grande successo, che poi si trasforma in un boomerang per lui, nasce la storia di un cantante che ne attraversa di cotte di crude. Come nasce questa riflessione? Sì, questa riflessione mi è venuta pensando più che altro a un calciatore, a Cassano, è il primo pensiero che uno fa, grandissimo talento, mai diventato campione. Ernesto rappresenta un po' questa caratteristica di noi baresi, cioè questa di impegnarci, di avere un grande talento, però spesso non dare quel quid in più che ci porta a diventare davvero dei campioni in qualcosa. Ernesto è uno che ci prova. L'opera di Carmela Formicola, intitolata Quando suonavo il jazz, ha come protagonista invece l'ex jazzista Sebastiano Seb Mariani e il rimpianto della sua vita perduta. Questo libro è una storia in parte autobiografica, è un libro che ho scritto dopo una malattia che mi ha insomma un po' destabilizzato e durante la convalescenza, siccome le parole sono una grande, una fortissima autoterapia, ho cominciato a scrivere. In realtà è poi un libro di grandissima fantasia perché parla di un musicista, di un jazzista, parla molto di musica, parla molto di Puglia, io sono innamorata della Puglia pur non essendo pugliese, ci sono un po' dei miei luoghi, i luoghi dell'anima e poi appunto c'è tanto tanto jazz. Qual è il messaggio e le emozioni che si vogliono offrire ai lettori? È un messaggio di speranza sicuramente, è la storia di un uomo che si perde, che ha perso il suo progetto, il suo sogno e che si ritrova a doverlo rinseguire, quindi è anche una metafora su come qualunque cosa di veramente spiacevole possa succedere nella vita, poi c'è sempre la possibilità, la capacità, la forza e il coraggio di riacciuffare il proprio sogno.